Eccomi qua ragazze, dunque, nuovo video sulle mie tisane, perché ne prendo solo due, le altre le ho lasciate in dispensa perché ne prendo solo all'inverno, e sono quelle delle tisane, limone e zenzero, quindi vabbè, quelle di spagnolo all'inverno, mentre le altre tisane che prendo sono limone e tartufo, ma il tartufo non mi fa impazzire, quindi neanche lo calcolo più di tanto, perché il tartufo non mi piace, ha un sapore un po' stucchevole, quindi no. Mentre parliamo di camomilla e camomilla, c'è una camomilla diversa, la camomilla quella, e la camomilla quella che appunto non solo ti fa calmare e riposare, ma ti fa anche dormire, io ne ho ben due preparate qua sotto i miei occhi, sotto la vostra, sotto la telecamerina, una è Bonomelli, che è molto famosa, e già si sa, questa qua, Bonomelli, adoro, e ce n'è ben, aspettate che ci guardo su perché non mi ricordo quanto ce ne fossero, ce n'è, non so quanto ce ne sia, vabbè, non mi ricordo, vabbè, aspettate che guardo dentro, se, e ce n'è un bel po', ma non mi ricordo quanto, ah, ce n'è 18 filtri, ok, ce n'è 18 filtri, non lo vedevo, ecco perché, c'è scritto qua sopra, 18 filtri, vedete, 18 filtri non si vedrà mai, comunque, molto buona, mi fa addormentare, non dico rapidamente, ma, dico che la prendo sia per il mal di stomaco, che la prendo anche per quando, sì, per calmarmi, per quando sono agitata, o cose varie, poi, quest'altra è Tisana Bon Relax, questa Lister House, l'estero come si diceva, non lo so, Lister House, questa qua, molto buona, della Bon Relax, calma, distende, ma anche rilassa, quindi, tutte un insieme di cose, fantastica, l'amo, ce n'è 20 filtri, si rappresenta veramente, allora, l'immagine, ha il solo scopo di rappresentare il prodotto, no, vabbè, sto leggendo una cosa, con la centra, una mazza, come al solito, ma fa niente, allora, questo è, Bon Relax, che mi piace davvero tanto, e adoro, perché è fantastica, e soprattutto, come si dice, mi, mi dà distensione, appunto, non so cosa dire, mi piace, basta, quindi, fatemi sapere, se queste due tisane, o questa, o questa qua, della Camomilla, Bono Millie, mi piace, o meno, a me piace davvero tanto, e l'adoro, perché è veramente, un toxan, proprio, molto buona, calma, e, non so che dire, mi piace, perché, sì, fa sì che, io mi devo, mi passi meno di stomaco, insomma, un sacco di cose, che, che mi fa stare bene, dai, Allora, fatemi sapere, se, tra questa tisana, quale prendete, se andate tante volte, all'Eurospin, o, non so, anche, di Simpli, o Lidl, quello che è, se prendete, o questa Bonomelli, che è molto buona, questa, o questa qua, della Bon Relax, perché è veramente buona, niente ragazzi, questo era tutto, io spero di avervi, fatto a compagnia, passato, almeno, altre tre, che ne so, dieci minuti della vostra vita, tre, tre secondi, sì, ciao, tre, dieci minuti della vostra vita, ehm, ti avevi so strappato un sorriso, non lo so, ho anche fatto compagnia, più che altro, ehm, basta, io vi saluto, e ci chiediamo, in un altro video, a presto, ciao, anzi, un altro secondo, vediamo se ci sta, sì, ci sta, fotisim, fotina, eccola qua, foto, ecco qua, ciao, a presto, un bacio, a presto, Grazie.